Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla 15 anche qui rallentamenti a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove si segnalano rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata in vigore all'altezza dello svincolo di San Donato che attualmente è chiuso in uscita in direzione Siena. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze a causa di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato per lavori, rallentamenti e code in via Bolognese all'altezza di Villa Finali. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!